Uno spettacolo potente ed emotivo, pensato a più livelli per i bambini e per i genitori, che racconta i volti invisibili della criminalità organizzata attraverso una divertente messa in scena di Burattini. Interpretato da Corrado Portuesi sotto la direzione di Alessio Di Modica, Mafia Off è l'ultimo lavoro della compagnia siciliana Area Teatro, che proprio ieri è partita da Siracusa per toccare Napoli, Roma e infine Firenze, dove parteciperà alla giornata dell'impegno e della memoria promossa dall'Associazione Libera. Abbiamo voluto fare uno spettacolo didattico che raccontasse la storia della mafia dall'origine, la mafia di campagna fino ad arrivare alla mafia dei nostri giorni, utilizzando dei testi che sono amati proprio nei momenti di laboratorio con i bambini di queste scuole. La mafia come soppluso, come angherie, come il togliere quell'entusiasmo di vivere nei propri luoghi d'appartenenza. Questa per noi rappresenta la prima tappa di un lungo viaggio che ci porterà fino a Firenze il 16 marzo, la giornata nazionale contro la mafia. E proprio grazie all'Associazione Libera, questa mattina lo spettacolo ha fatto tappa nell'Istituto Giacomo Leopardi di Forigrotta, per un pubblico di bambini della scuola primaria, suscitando la curiosità e le domande, qualcuna davvero inaspettata, dei giovani spettatori. Questa attività, Mafia Off, rientra a pieno titolo in tutte le attività che già svolgiamo nella scuola per favore della legalità. Quindi devo con l'occasione per ringraziare Libera per la disponibilità che ha dato occasione a questa compagnia di venire gratuitamente alla nostra scuola perché riteniamo assolutamente essenziale nel complesso dell'offerta formativa andare a sostenere tutti gli aspetti che sono connessi alla legalità. Nel pomeriggio lo spettacolo viene replicato al rione Sanità, per i ragazzi dell'Associazione Sotto Ponte, che si occupa di teatro e di educazione alla legalità. I bambini della scuola Leopardi hanno un corpo docente eccezionale che normalmente svolge attività didattiche a tutto campo, a 360 gradi. È una delle scuole che più lavora sui valori della cittadinanza, in primis i valori della legalità. Mafia Off è uno spettacolo che viene offerto da una compagnia di Libera siciliana e che viene portato in giro per l'Italia per ribadire per l'ennesima volta nei luoghi scolastici, attraverso i laboratori con i bambini che la Camorra e la mafia sono un problema di tutti, non sono un problema soltanto di alcune fasce di cittadinanza. Quindi noi dobbiamo solo ringraziare gli artisti di Mafia Off perché ci danno un'opportunità di estendere il messaggio attraverso l'espansione dei linguaggi.